No, non siamo in Scandinavia ragazzi, qui siamo a Roma, su cittadestra della Galleria. Guardate che sta facendo. Letteralmente sta nevicando. Speriamo del non Pantanas, situazione allarmante. Speriamo del non Pantanas. Un'altra parte, è un'altra parte. Speriamo del non Pantanas. Un'altra parte. Un'altra parte. Oggi è venerdì 17 dicembre 2010, i lavoratori stanno indicando la paura, io ando a far il corso, non ti riparo da bloccato.